Siamo qui insieme a Maiko del Good Mojito, partita difficile fino a praticamente gli ultimi 5 minuti dove avete fatto 3 gol di fila e avete vinto 5 a 2. Abbiamo fatto molta fatica, soprattutto loro si chiudevano molto, quindi proviamo ad attaccare il modo di essere molto risultato. Alla fine siamo riusciti a vincere. Beh, un gran processo a palla, primo tempo equilibratissimo, però come dici te siete riusciti a vincere, partita molto molto difficile, però ce l'avete fatta. Loro sono un grande gruppo, ci hanno dato fila da torcere, ce la faremo bene. Bene, allora vi aspettiamo prima premazione. Grazie mille, congratulazioni. Grazie mille. Grazie mille.